Buon pomeriggio a tutti, in tanti mi avete chiesto di tornare a parlare del bonus SAR, ascoltatemi attentamente, lo faccio per voi e comunque sia nella mia pagina iniziale troverete una playlist dedicata a questo bonus SAR, bonus SAR 2023 che avrà inizio a partire da settembre, vediamo insieme quali sono i requisiti. Riparte il bonus da settembre 2023 per ex lavoratori in somministrazione rimasti disoccupati. Ecco i requisiti e le istruzioni per la domanda. Dal 1 settembre riapre la procedura per l'inoltro delle domande di accesso al bonus SAR 2023, ossia sostegno a reddito erogato da Formatemp ad alcune tipologie di disoccupati, che può arrivare fino a 1000 euro l'ordine. Lo sportello per il bonus è infatti sospeso dallo scorso 1 maggio, nel frattempo prosegue l'istruttoria sulle domande presentate finora, al momento quelle relative al periodo 23-26 febbraio. Vediamo di seguito tutti i requisiti e i dettagli per ottenere il sussidio. Il bonus SAR è un sussidio economico, una tantum offerto da Formatemp, ente bilaterale per la somministrazione di lavoro. La prestazione è riservata ai disoccupati, tuttavia l'accesso è limitato a una specifica categoria di professionisti. Il bonus SAR è destinato esclusivamente a chi ha lavorato con contratti di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato. Esistono requisiti specifici per poter fare richiesta, tra cui Essere disoccupati con almeno 110 giorni di lavoro e in stato di disoccupazione da almeno 45 giorni negli ultimi 12 mesi dall'ultimo giorno di lavoro in somministrazione. Essere disoccupati da non meno 45 giorni avendo terminato la procedura in mancanza di occasioni di lavoro, MOL, come previsto dall'articolo 25 CCNL Agenzie per il Lavoro. Per calcolare i giorni lavorati e quelli maturati è necessario consultare la busta paga e cercare la voce data di cessazione. Per calcolare i giorni di lavoro in somministrazione maturati bisogna sommare i valori più alti tra i giorni lavorati e i giorni retribuiti e i giorni IMS sempre presenti in busta paga. Ribadisco, per calcolare i giorni di lavoro in somministrazione maturati bisogna sommare i valori più alti tra i giorni lavorati, i giorni retribuiti e i giorni IMS. Vediamo insieme adesso a quanto ammonta il bonus SAR. L'importo del bonus SAR di forma punto temp riservato ai disoccupati dopo un periodo di lavoro in somministrazione a determinate condizioni varia da 780.000 euro l'ordine con l'importo più basso destinato alla terza categoria sopra indicata di lavoratori e l'importo più alto alle prime due categorie. Vediamo insieme come richiedere il bonus SAR. La domanda per il bonus SAR può essere inviata telematicamente tramite il modulo presente sul sito forma.temp. Previa registrazione sulla piattaforma FT Web. Tra il 106 e il 173 giorno successivo all'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione è necessario presentare i seguenti documenti. Codice fiscale o tessera sanitaria. Copia delle buste paga che confermano la somministrazione 110 o 90 giornate maturate negli ultimi 12 mesi. Busta paga di cessazione lavorativa. Estratto conto previdenziale IMS dopo almeno 105 giorni dalla cessazione del lavoro attestante i 45 giorni di disoccupazione. Eventuali certificati di malattia infortunio o maternità in caso di dimissioni volontarie per giusta causa documentazione IMS che attesta il riconoscimento NASPI. In alternativa ci si può rivolgere agli sportelli sindacali di Felsa, CISL, NIDIL, CGL, Will, Temp. Per ulteriori dettagli sono disponibili online sul sito FormaTemp tutte le notizie a riguardo.